Il Regency Palace è un vecchio hotel di lusso che offre camere spaziose e fornisce un servizio incomiabile. L'esperienza culinaria è deliziosa, con una varietà di opzioni sia per la colazione che per la cena, ed il personale eccezionalmente disponibile. Tuttavia, vale la pena notare che le camere, in particolare i bagni, necessitano di una ristrutturazione. Amman, la vibrante capitale della Giordania, è una città che fonde la ricca trama della sua antica storia con il ritmo della vita moderna. Grazie a tutti. Dopo una completa immersione nei colori e nei profumi del souk, la vita è e la visita prosegue verso la cittadella di Amman. Questa meraviglia archeologica arroccata su Jabal al-Kalaa, si trova nel cuore della frenetica metropoli. Questo antico luogo, ha assistito all'ascesa e alla caduta delle civiltà, con tracce che risalgono all'età del bronzo. La cittadella è una testimonianza della lunga eredità di Amman, offrendo viste panoramiche sulla città e fungendo da affascinante capsula del tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lontano da questo tesoro archeologico si svela il teatro romano, un magnifico retaggio del passato romano della città. Questo anfiteatro ben conservato, costruito durante il regno dell'imperatore Antonino Pio, e cheggiava una volta con gli applausi degli spettatori che assistevano a combattimenti di gladiatori e spettacoli teatrali. Passeggiando tra i resti di queste antiche strutture, i suoi visitatori possono percepire gli ecchi delle epoche passate. La cittadella e il teatro romano, fianco a fianco, narrano una storia avvincente dell'evoluzione della città, dalle vette delle antiche civiltà all'energia cosmopolita della Amman contemporanea. Insieme, incarnano lo spirito duraturo di questa capitale, dove storia e modernità coesistono armoniosamente. Il castello di Ajlun, anche noto come Cala Tarrabad, è una suggestiva fortezza incastonata nelle verdi colline del nord della Giordania. Costruito nel XII secolo da Yitzhaddin, nipote del grande leader militare Saladino, il castello fungeva da roccaforte difensiva contro le forze crociate e proteggeva la regione circostante. La sua robusta costruzione, con mura massicce e torri di avvistamento, riflette l'abilità militare dei suoi costruttori. La posizione del castello al crocevia delle principali vie commerciali, gli permetteva di controllare il flusso del commercio e di servire come anello vitale nella catena di comunicazione tra le città. Esplorare oggi il castello di Ajlun, consente ai visitatori di passeggiare tra le sue sale, i suoi passaggi e le sue torri ben conservati, acquisendo una comprensione della maestria architettonica dell'architettura militare islamica dell'epoca. La posizione strategica del castello circondato da una rigogliosa vegetazione, offre un forte contrasto al suo storico ruolo di roccaforte militare. Arroccato sulla cima del Monte Auf, il castello di Ajlun offre viste mozzafiato sulla valle del Giordano, rendendolo una fortezza strategicamente significativa durante il periodo medievale. Gerash, situata nelle fertili alture del nord della Giordania, è una meraviglia archeologica che riecheggia la grandezza dell'impero romano. Spesso definita come la Pompei dell'Oriente, con oltre duemila anni Gerash è un sito archeologico eccezionalmente ben conservato, che offre ai suoi visitatori uno sguardo al suo passato storico. L'imponente arco di Adriano e la piazza ovale sono una testimonianza dell'importanza strategica della città durante il periodo romano. Risalente al IV secolo avanti Cristo, Gerash fiorì come una prospera città greco-romana e divenne successivamente parte integrante della Lega delle Decapolis. Le rovine straordinariamente conservate della città mostrano un vivace centro urbano con strade colonnate, teatri, templi e archi. La combinazione unica di influenze greco-romane e orientali, insieme alla meticolosa conservazione della città, rende Gerash una destinazione avvincente per gli appassionati di storia e i viaggiatori che cercano una connessione vivida con il passato. Una nota storica particolarmente affascinante è il Ninfeum, una grande fontana dedicata alle ninfe dell'acqua. Questa struttura intricata riflette le avanzate abilità ingegneristiche dei romani, con intagli elaborati, statue e una rete di canali d'acqua. Serviva come punto centrale d'incontro e come testimonianza dell'impegno della città verso la funzionalità e l'estetica. Girando per le antiche strade di Gerash, i visitatori possono ancora percepire il ritmo della vita che scorreva in quella che fu una fiorente metropoli. Grazie a tutti!